Avviati nel 2018 dopo l'interruzione legata alla pandemia, sono in fase di rifinitura i lavori di realizzazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, situato in piazza Santa Maria di Gesù, in prossimità di via Fabio Filzi, costata circa 15 milioni di euro, finanziati in parte dal fondo ex articolo 71 della legge 448 del 1998, circa 9 milioni di euro, e dal fondo sanitario regionale quasi 6 milioni, nella nuova struttura sviluppata su tre piani fuoriterra e un piano seminterrato, convoglieranno tutti i servizi relativi all'attività di emergenza urgenza e dovrebbero essere operativi nei prossimi mesi. Ultimati i lavori sono attualmente in corso, le opere di rifinitura e completamento, così come le necessarie attività di collaudo funzionale e tecnico-amministrativo e l'installazione delle grandi apparecchiature nella la ovest del piano seminterrato dell'edificio, dove è collocata la radiologia. Come previsto dal programma attuativo, i collaudi funzionali verranno definiti entro il prossimo mese di agosto. A partire dal mese di settembre poi verrà effettuato il graduale trasferimento delle unità operative interessate, sarà cura dell'azienda ospedaliera, garantire comunque durante questa fase di trasferimento l'effettiva continuità dei servizi sanitari complessivamente erogati nella totale sicurezza dei pazienti.